lunedì 5 luglio buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di fano tv buon inizio settimana a tutti voi un cordiale saluto a tutti i nostri telespettatori un cordiale saluto anche ai turisti che si trovano nella nostra splendida regione la regione Marche che vi accoglie spero per una bella grande estate e questa settimana che trascorrerete insieme a noi allora partiamo come di consueto con vedere il santo del giorno poi le previsioni del tempo per la giornata di oggi oggi è sant'antonio maria zaccaria il sole sotto alle 5 30 e tramonterà 4 minuti prima delle ore 21 dopo la pioggia di ieri la pioggia di ieri oggi avremo cielo sereno con addensamente nelle ore centrali qualche po di vento moderato lungo la costa ma niente di che per la giornata di domani martedì queste sono le previsioni della protezione civile delle Marche per domani dicevo cielo sereno poco lovoloso ancora tempo stabile con un forte rialzo termico per la parte centrale di questa settimana quindi tornerà l'anticiclone africano tornerà il caldo e quindi insomma torneremo a soffrire un po il caldo ma questo fa parte un po anche dell'estate allora andiamo adesso a leggere invece i giornali il corriere adriatico edizione di pesero baia piemone pienone con multe siamo alla baia flaminia di pesero il parcheggio a pagamento nel campo di marte già esaurito a metà mattina ma i furbetti non la sfangano controlli a tappeto degli ausiliari del traffico una raffica di segnalazioni per la sosta selvaggia anche a sottomonte lì nella sulla statale adriatica ma centro pagina vedete la fotografia il corriere di questa mattina la dedica la movida cioè i giovani che che affollano queste serate estive qui siamo al lido di fano assembramenti al lido movida come se il virus non esistesse ma qui di fianco in realtà il virus esiste e come e salgono purtroppo i contagi incubo delta ora ascoli fa paura alla regione vedremo nel dettaglio tra pochissimo intanto la fotonotizia da pesero invece da piazza del popolo la piazza baby la mezzanotte bianca dei bambini comandano loro insomma e vedete sono pare più disciplinati dei 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 giovani tutti distanziati davanti per giocare fare animazione intanto gli albergatori dicono noi siamo stati abbandonati sempre gli albergatori pesaresi a sinistra della palla ogni tipo di iniziativa per i turisti a destra invece ci sono sempre le erbacce nei marciapiedi dicono in sostanza poi le brutture evidenziate sempre in prima sul carlino le brutture che si possono vedere girando la città di pesero palazzi cadenti abbandonati simboli eterni del degrado viaggio nella città che non va a fano continua la polemica sullo smart working cioè il lavoro fatto da casa attraverso il computer sapete il sindaco ha cancellato questa possibilità quindi da mercoledì i dipendenti dovranno tornare in comune in presenza e adesso scattano le polemiche anche nella maggioranza poi la festa del porto a pesero resiste nel segno della fede ci sono state le celebrazioni che però sono state un po ridotte all'osso cioè il minimo proprio sindacale stop ai lavori nell'ex convento italia nostra fa le barricate poi l'ambulanza a gabice è arrivata da pesero in onda cattolica un soccorso beffa con ritardo poi lo sport qui sotto visi iniezione di fantasia c'è mercandella in arrivo il trequartista giocava nel padova e per chi ne arriva anche il match analyst poi la vl invece lo sport basket le strade che portano a cinciarini alle battute decisive l'intreccio di mercato che può riportare il play a casa ma adesso andiamo a vedere allora quali sono le notizie che riguardano la pandemia perché le marche sono osservate speciali o meglio la provincia di ascoli piceno è osservata speciale perché lo sapete tutti ormai che cosa è successo giovedì scorso giovedì scorso c'è stata una festa in spiaggia in uno chalet in questa spiaggia purtroppo c'era una persona positiva al coronavirus che ha infettato decine e decine di partecipanti è questo quello che succede quando non si mantiene il distanziamento non c'è estate che conta non c'è estate che tenga il virus continua a circolare e purtroppo quest'anno abbiamo a che fare con una variante che ahimè resiste anche al caldo evidentemente visto che l'anno scorso a questi di questi tempi parlavamo di altro per fortuna quest'anno invece siamo siamo messi così positivi e variante delta andiamo a leggere il giornale la provincia di Ascoli ora osservata speciale quasi 500 positivi al covid nella provincia di Ascoli e un'incidenza che passa da 2 a 50,8 eccolo qui il numerino che spaventa sono 50,8 casi settimanali per ogni 5 100 mila abitanti e anche i bambini sanno quelli che ascoltano la rassegna stampa al mattino che superati i 50 scatta la zona gialla ora peggio di così in tutta Italia ha fatto solo Caltanisetta in Sicilia il territorio ascolano dunque sotto stretta osservazione dagli esperti di Roma assieme ad altre 31 province che stanno registrando un picco di contagi finora però il fenomeno è stato transitorio e l'aumento limitato interpretabile come focolai rapidamente circoscritti sempre da questo articolo di Maria Teresa Bianciardi ho segnato in giallo altri passi interessanti altri dati che ci fanno capire un po' com'è la situazione ieri per esempio i tamponi effettuati nelle marche hanno registrato evidenziato 41 persone positive al covid su 1.159 diagnosi di queste ben 27 sono nella provincia di Ascoli Piceno sette nella provincia di Ancona due nella provincia di Macerata una in quella di Pesor Urbino e poi quattro fuori regione mentre non sono stati registrati casi nella provincia di Fermo San Benedetto resta al centro dell'attenzione sanitaria dopo due giorni senza decessi è stata registrata una vittima proprio sulla riviera delle palme si tratta di un uomo di 76 anni originario di di Monsan Polo del tronto con patologie pregresse sempre da questo articolo le prossime due settimane dovranno essere sorvegliate speciali secondo il matematico Giovanni Sebastiani dell'istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Picone del consiglio nazionale delle ricerche il CNR non tanto per i festeggiamenti per gli europei ma soprattutto evidenzia l'esperto per i flussi che si stanno venendo a creare per le vacanze soprattutto all'estero in paesi dove l'incidenza ora è molto più alta che in Italia con tutte le condizioni di sembramento o mancanza di distanziamento di distanza prolungate nel tempo che si ripetono ogni giorno vi ricorderete sicuramente i telespettatori che ci seguono tutti i giorni ricorderete l'anno scorso a un certo punto ma non adesso a luglio eravamo già più avanti ricordo bene quando parlammo di gente di persone che da qui da Fano Pesero volevano andare in Croazia a tutti i costi avevano prenotato il biglietto ma dalla Croazia arrivavano notizie non proprio trasparenti nelle quali si diceva che c'erano delle isole per esempio qua dove il virus circolava in maniera molto imponente ebbene molte persone continuavano ad andare in Croazia come se nulla fosse per poi ritrovarci che cosa a settembre con i primi casi che hanno poi riacceso tutto quello che abbiamo visto e guarda caso dai tamponi veniva fuori che erano state contagiate proprio in Croazia da quelle parti quindi europei da una parte vedremo e poi i vacanzieri che nonostante tutto decidono di andare all'estero a farsi le vacanze con tanto di rischio vacanze con roulette russa allora invece andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico perché intanto c'è un'intervista a Pasqualino Piunti sindaco di San Benedetto del Tronto che come abbiamo visto è osservato speciale una task force per i controlli e tamponi gratuiti anche oggi non ci arrendiamo al virus dice il primo cittadino dice ci siamo mossi subito per fare in modo che questo focolaio non compromettesse la stagione iniziata e devo dire che c'è stata piena collaborazione con gli operatori eccetera eccetera ora c'è invece l'appello vedete qua sulla sinistra del teleschermo di coloro che gestì dei gestori delle discoteche sapete che le discoteche sono ancora chiuse per ordine del governo il cts il comitato tecnico scientifico non ritiene in questo momento possibile la riapertura delle discoteche trant'è che i bar comunque chi fa musica può fare musica ma senza che nessuno si azzardi a ballare e si entra in pressing i gestori entrano in pressing e chiedono di riaprire le discoteche alla luce anche di quello che è successo in Toscana nel Pisano dove c'è stato un rave party illegale lo ricordiamo illegale dove si sono radunate centinaia e centinaia di persone ovviamente senza mascherina senza distanziamenti per ballare e chi conosce rave party sa di che cosa sto parlando ma vediamo che cosa dice l'appello di questo gesto di questi gestori le discoteche possono essere un elemento di controllo allora andiamo a leggere più in basso perché c'è questo gestore rappresentante che dice stanotte alle tre in una piccola strada di rimini davanti ad un bar c'erano 500 persone anche i baristi hanno capito che se non aprono i locali da ballo il problema diventa incontrollabile anche perché si verificano in strada risse aggressioni rapine che si insinuano nella voglia di stare insieme dei ragazzi cioè vi rendete conto cioè non possiamo continuare a leggere i giornali così come se niente fosse cioè noi stiamo parlando di 500 persone radunate davanti a un bar che se non vanno a ballare in discoteca potrebbero fare aggressioni rapine poi che cos'altro insomma risse in strada stiamo parlando di persone non di animali se tu a un 500 pecore gli metti due cani da una parte questi stanno stanno perfettamente in ordine nessuno fa casino e queste pecore fanno quello che dicono i due il pastore due cani qui parliamo di persone quindi dotate di intelligenza di cervello invece rischiano di fare risse in strada aggressioni e addirittura rapine cioè adesso ditemi voi qual è la strada che stiamo prendendo ma comunque intanto gli esperti del cts siamo sempre sul Corriere Adriatico questa mattina commentiamo i giornali come facciamo tutte le mattine vaccini obbligatori agli studenti è un'ipotesi con molte incertezze ipotizzare la vaccinazione obbligatoria per gli studenti è possibile ma la vedo molto difficile anche perché non ci sono vaccini approvati per la fascia da 0 a 12 anni è l'opinione di Fabio Ciciliano membro del comitato tecnico scientifico che che continua a ribadire la possibilità anzi la necessità di vaccinare anche gli studenti anche se la vede un po' dura perché i professori per esempio e il personale scolastico per settembre saranno tutti vaccinati mentre per gli studenti c'è il problema della fascia 0 a 12 anni per i quali non c'è un vaccino autorizzato mentre da Fano da Fano l'apertura del Corriere Adriatico è con questo titolo qua guardate la città e la voglia di ritrovarsi folla sul lungomare e in centro ma i saldi sono partiti a rilento l'appello dell'assessore fate acquisti nei negozi questa è la passeggiata dei giovani a Lido abbiamo visto anche nella fotonotizia insomma quante quante persone c'erano poi non essendoci più l'obbligo di mascherina molti fanno finta di ignorare poi la clausolina che c'è subito dietro è vero che non si può che non è più obbligatoria la mascherina all'aperto però attenzione perché laddove ci sono condizioni di assembramento e qui a Lido ce n'erano in abbondanza la mascherina va utilizzata però la polizia locale sabato sera questa è l'altra fotografia la vedete qua eccola qui la polizia locale di Fano che in qualche modo presidiava cercava con la sua presenza anche di fare da deterrente laddove possibile ma la gente è talmente stanca soprattutto i giovani che anche lì fanno finta di non vedere intanto questa è un'altra notizia che a me fa sinceramente un po' arrabbiare perché come voleva si dimostrare e lo abbiamo detto anche commentando a rientro in studio da una notizia data con delle belle immagini durante un servizio alla fine di un servizio su questo sottopasso del Lido che è stato risistemato fatto bene con tutte le luci nuove hanno speso dei soldi gli studenti dell'istituto d'arte hanno fatto tutte le decorazioni e quant'altro hanno messo le luci il pavimento nuovo hanno messo tutto a rientro da questo servizio io dissi beh adesso ci vorrebbero però le telecamere perché io non sono un genio però ho dato per scontato che siccome in quel sottopasso da decenni da cent'anni a questa parte chi passa con una bomboletta ci fa gli scarabocchi ho detto una roba del genere minimo minimo durerà qualche settimana e poi arriveranno i primi scarabocchi e infatti eccolo qua già deturpato il nuovo sottopasso rabbia generale ma rabbia di che il comitato Lido chiede una punizione esemplare a chi ai fantasmi sollecitate le telecamere ecco sollecitate o dopo quando le pecore sono usciti e il recinto adesso mettiamo le telecamere prima no sfregiato uno dei pannelli artistici ora le telecamere ma dai davvero sottopasso del Lido qualcuno ci ha inciso la parola fiocco e vabbè festa del porto andiamo dal porto di Fano al porto di Pesero fede tradizioni tempesta passata speriamo limitata ancora una volta dalle restrizioni covid ma la partecipazione non è mancata celebrati 70 anni di sacerdozio di Don Valentino Don Valentino è questo sacerdote qua ricomincerei tutto da capo dice lui intanto l'arcivescovo coccia sotto vedete Don Valentino e il racconto di quella che è stata una domenica per i pesaresi comunque importante perché insomma la festa del porto è sempre una festa molto sentita intanto restando un po sempre in zona zona mare il campo di Marte è tutto esaurito ma i furbetti non la sfangano sosta pagamento controlli a tappeto degli ausiliari del traffico già a metà mattina e sotto invece su booking le prime critiche troppo chiasso ora che cos'è booking booking è una piattaforma chi viaggia la conosce bene insomma una piattaforma dove si può prenotare gli alberghi bed and breakfast e quant'altro ovviamente punto importante di questi di queste piattaforme sono le recensioni cioè io scrivo le mie impressioni scrivo come sono stato se mi è piaciuto quell'albergo la stanza la pulizia l'educazione il rapporto qualità prezzo tutti questi parametri che grazie ai tanti segnalatori danno un'idea e aiutano soprattutto gli altri turisti gli altri viaggiatori a non prendere le famose sole direbbero a Roma quindi di andare un po sul sicuro su booking adesso a pesaro che cosa succede in questa in questa piattaforma di prenotazione online arrivano le primi le prime critiche cioè si lamentano che negli alberghi via le trieste c'è chiasso c'è troppo chiasso chi lo fa questo chiasso la movida che appunto si è creata quest'anno in via le trieste e questo è un problema un problema che tra l'altro deve essere in qualche modo risolto anche il direttivo dell'apa che l'associazione degli albergatori pesaresi va un po alla ricerca di soluzioni per questa movida molesta quindi un patto che servirà insieme al comune di trovare soluzioni possibili contro gli eccessi del movida ora questa notizia che riguarda invece un po tutte le marche perché da tutte le marche partono persone che vanno a castelluccio di norcia per vedere lo spettacolo della fioritura ora quest'anno sapete c'è questa novità che non so chi l'ha partorita non si sa bene il motivo ma bisognerebbe studiarla un po a castelluccio adesso è tutto chiuso nel senso che i turisti provenienti dalle marche hanno visto le strade sbarrate e battaglia dunque scrive il giornale tra marche ed umbria per la fioritura di castelluccio la militarizzazione addirittura degli eccessi con il blocco del traffico per le auto provenienti da arcuata del tronto e castel sant'angelo sul nera ha prodotto lo scenario di paesi e ristoranti semi deserti turisti provenienti da fuori rispinti e costretti a tornare indietro ecco la fioritura dal vivo ovviamente tutta un'altra storia ma è uno spettacolo incredibile il vescovo di massale dice così il territorio viene penalizzato a urbino invece l'attacca è guasta da cinque giorni gravi disagi all'ospedale ducale ambulanze dirottate su fano e fossombrone operatività rallentate le liste di attesa si sono allungate a rischio buona parte dell'attività di ortopedia chirurgia e anche del pronto soccorso andiamo invece adesso sulla pagina di senigallia anche qui ci sono due pagine questa mattina due bollettini di guerra verrebbe da dire lungomare marconi una notte da incubo tanti ubriachi qui non c'è bisogno della non c'è bisogno delle recensioni su booking basta aprire il giornale ogni giorno sul correo adriatico sulla pagina di senigallia a leggere uno starebbe a distante alla larga da senigallia perché con tutto quello che si legge su questa città poveretta eppure non mi sembra che sia così però andiamo avanti tanti ubriachi lettini tagliati dai vandali insomma la situazione non è delle migliori a senigallia intanto cicconi massi di confartigerato chiede sanzioni per chi entra nelle concessioni dopo mezzanotte sapete che il sindaco livetti siede che senigallia è stato costretto visto che questo questo fenomeno dei vandali non si non si esauriva è stato costretto ad emettere un'ordinanza della quale vieta il l'accesso alle spiagge dopo una certa ora quindi c'è una sorta di coprifuoco che mentre in italia è stato tolto per il covid a senigallia è stato è stato istituito per per arginare questo fenomeno questa gente di questi giovani fuori di testa che andavano nelle spiagge a spaccare tutto e questo è quello che appunto racconta Sabrina Marinelli questa mattina sul giornale poi l'ultimo saluto alla professoressa Antonelli l'insegnante di 75 anni che abitava a Marzocca e poi nell'altra pagina invece sempre del del Corriere Adriatico da Senigallia rubano 3.000 euro nel supermercato caccia la banda della Mercedes grigia colpono il cuore della notte al sì contè di Marzocca i quattro banditi ripresi dalle telecamere e poi sempre lì vicino a Montemarciano gli notificano un atto poi lo arrestano per droga e questa era l'ultima pagina selezionata della nostra rassegna stampa grazie come sempre per la vostra attenzione il commento alla stampa torna domani mattina alle 7 puntuali come sempre poi stasera invece alle 20 e 30 c'è il telegiornale occhio alla notizia arrivederci